Siamo arrivati a fare 160-170 cremazioni alla settimana, per noi è sempre stato tassativo il massimo rispetto per i defunti, però per esigenze di spazio siamo stati obbligati a tenere i feretri appoggiati in terra sopra i bancali, chiaramente quelli sono i primi che vanno, però intanto una giornata devono passarla in quello stato lì, mi piange il cuore, ma per gioco forza non abbiamo altra scelta. Grazie. 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 Grazie a tutti.